Ecco qua il fatto, il fatto, il fatto, il fatto. E' una bella notizia. E di meno che i repubblicani si presentano all'elezione mità con Polo e mità con i testi. E quale mità si presenta Polo? Che le coppe che le sott? Ehi, che le coppe che le sott. Buongiorno, eccomi qua. Ah, sono stato dall'analista. Ah, dottor, non ci fai... Le analisi di ieri? No, signor, tutto negativo. Avete tre fisici eccezionali, sangue pulito. Un poco qualche traccetta di nicotina, ma niente di... Ma aspetto domani in laboratorio e Leonardo non ci sta? No, dottor, aspetto. Glielo dite anche a lui. No, ma vabbè, ma io, dottor, voi mi dovete fare una cortezia. Sì, ma prima che bene, gli tengono un magone qua sulla sopra, in un malloppo. Ma già lo avrete a scarpare la paura che mi facette messa... Ma ancora ci sto da pensare la paura. Ma convene, non ti dite che lui non sta andando bene, che sta ciò alla corte. Donnerè, non possiamo scherzare sulla salute. O facimmo venire una cosa? No, poi noi scherziamo un poco poi, alla fine, sì, la cosa si sente, ma... Immediatamente, intervenite, eh, mi raccomando. Che impressione c'è stato venire? Ehi, no, 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 no. Perdonare, io sono stato... Ah, perdonare! Ma come ti vengo brutto stamattina, magari è? No, perdonare, è un po' bianco, un po' bianco, un po' bianco. Noi possiamo donare, è vero? Sì, sì, voi potete donare. Ma perché sono andato all'armi? Ma voi li ha occhiati, non preoccupate, non preoccupate. No, no, stanno. Come sta valido? Ma come ti senti stamattina, fammi sentare. Non lo allarmate, sedetevi un pochettino, sedetevi un pochettino, sedetevi un pochettino. Come ti senti cosci? Eh, mi senti buono, però, ma effettivamente... No. Eh, se vedi che proprio... Tutto si matrici, le cose ricette a me, lo facci, le insegne a me. No, signore, state tranquilli, non mi preoccupate, sedetevi. Non, signore, sedetevi. Io non ho la lissangua, già so, buono. Lo so, lo donerete, lo donerete, lo donerete anche qualche altro.